intrighi segreti e rivelazioni anticipazioni episodi futuri benvenuti sul nostro canale dove ci immergeremo nell'intensa trama della serie la promessa e analizzeremo in dettaglio i prossimi sviluppi della storia prima di entrare nei particolari delle prossime puntate vi invitiamo cortesemente a sostenere il nostro canale lasciando un mi piace e iscrivendovi per rimanere sempre aggiornati sulle vicende dei nostri amati personaggi il ritorno di manuel manuel figura centrale della narrazione ha recentemente affrontato un tragico incidente aereo le cui conseguenze hanno avuto un impatto devastante sulla sua vita l'aereo coinvolto in circostanze ancora oggetto di investigazioni si è schiantato e miracolosamente manuel è sopravvissuto tuttavia è rimasto intrappolato in un coma profondo per settimane durante questo periodo di incoscienza la sua famiglia gli amici e tutti coloro che lo amano hanno tenuto il fiato sperando e pregando per il suo risveglio quando finalmente ha riaperto gli occhi il sollievo è stato palpabile ma si è accompagnato a una dura realtà manuel aveva perso gran parte dei suoi ricordi non riconosceva più i volti familiari i luodi che aveva amato o le esperienze vissute l'amnesia lo ha reso vulnerabile e disorientato come un neonato che cerca di comprendere il mondo intorno a sé le menzogne di cruz e gimena in questo contesto di fragilità due figure misteriose e oscure cruz e gimena hanno intrapreso un intricato piano sfruttando la confusione di manuel hanno tessuto una rete di menzogne con motivazioni personali e oscure il loro obiettivo iniziale era semplice allontanare manuel dalla sua vera passione il volo tuttavia come spesso accade quando la menzogna prende il sopravvento il loro piano si è evoluto in una rete sempre più intricata e complessa di storie fittizi e inganni hanno creato un passato completamente fittizio per lui un passato che lo allontanava dalla realtà e dai suoi veri affetti ana e la ricerca della verità in questo intricato intreccio di menzogne e verità emerge un nuovo personaggio determinato a far emergere la realtà nascosta ana dotata di una straordinaria intuizione ana ha subito avvertito che qualcosa nell'aria non andava ha osservato ascoltato e analizzato ogni dettaglio giungendo alla convinzione che manuel fosse vittima di un sinistro complotto la sua ira è alimentata non solo dal suo amore per manuel ma anche da eventi passati che la legano in qualche modo a questa situazione decisa a fare giustizia ana decide di cercare l'aiuto di maria fernandez una donna rispettata e rinomata per la sua saggezza e profonda conoscenza delle dinamiche umane maria fernandez e il consiglio saggio l'incontro tra ana e maria fernandez è un momento cruciale della trama ana esprime le sue preoccupazioni e sospetti a maria fernandez sperando di ottenere chiarezza in questo intricato gioco di inganni e rivelazioni maria fernandez con la sua calma abituale ascolta attentamente e poi con uno sguardo serio consiglia ad ana di non interferire troppo nell'oscura matassa di menzogne le fa capire che ogni azione ha delle conseguenze e che talvolta cercando di fare del bene si può involontariamente causare ancora più danno curro e le sue percezioni nel frattempo curro un altro personaggio chiave della storia inizia a percepire che qualcosa non va anche se non comprende appieno cosa stia accadendo il suo istinto gli dice che manuela in pericolo dopo aver osservato la situazione da lontano per un po decide di avvicinarsi a manuel tra i due si svolge una lunga e profonda conversazione durante la quale curro con delicatezza ma fermezza mette in discussione la narrazione di gimena e suggerisce che la storia d'amore tra lei e manuel potrebbe non essere così idilliaca come gli è stata presentata questo scambio tra amici intreccia nuovi dettagli e insinua ulteriori dubbi nella mente di manuel le fondamenta del mondo costruito attorno a lui iniziano a scricchiolare e lui inizia a cercare risposte la famiglia de los infantes in crisi nel contesto di questa intricata trama emergono le fragilità finanziarie della famiglia de los infantes un tempo un baluardo di ricchezza potere e rispetto il matrimonio imminente tra gimena e manuel è stato originariamente considerato una mossa strategica per stabilizzare la situazione finanziaria della famiglia si sperava che l'unione di due famiglie potenti potesse rafforzare la loro posizione nella società tuttavia con i crescenti dubbi sulla veridicità della storia d'amore tra i due molti iniziano a sospettare che ci siano motivazioni nascoste dietro questa unione la situazione si complica ulteriormente con la notizia della vendita di un gioiello di grande valore un oggetto carico di simbolismo per la famiglia de los infantes questa vendita non solo rivela la profondità della loro crisi finanziaria ma mette anche in luce un livello di disperazione che pochi avrebbero potuto immaginare la famiglia una volta unita ora è divisa tra coloro che comprendono e simpatizzano per la decisione di gimena vedendola come un'azione necessaria per salvare la famiglia da un destino di rovina finanziaria e coloro che la considerano un tradimento imperdonabile rivelazioni scioccanti la trama si infittisce ulteriormente con rivelazioni che sconvolgono profondamente gli equilibri familiari cruz rivela a curro una verità sconvolgente riguardo al suo passato rivelando che lorenzo l'uomo che curro ha sempre chiamato padre non ha legami di sangue con lui questa notizia lascia curro senza parole con il cuore pesante e la mente intumuto ma le sorprese non finiscono qui poiché poco dopo ana condivide una rivelazione ancor più scioccante lei e curro sono legati da un vincolo di sangue sono fratelli questa scoperta scuote le fondamenta delle loro relazioni e cambia per sempre la dinamica tra i due con una trama densa di segreti bugie e rivelazioni le prossime puntate promettono di essere ricche di suspense e colpi di scena continuate a seguirci nel nostro canale per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulla serie la promessa non dimenticate di lasciare un like al video e di iscrivervi per non perdere le prossime anticipazioni emozionanti la storia si fa sempre più intrigante e siamo pronti a condividerla con voi